da più di un anno di un anno ho segnalato agli uffici la pericolosità del mando stradale sito in piazza della vittoria dal civico 27 al 29 ho segnalato questa situazione agli uffici un anno due mesi fa ma ancora non è successo nulla il tratto in questione è particolarmente pericoloso se qualche mezzo un po più pesante passa sulla carreggiata sicuramente la carreggiata non tiene i residenti hanno anche paura perché all'interno delle loro case si sono create a causa di questo problema del sottosuolo delle delle spaccature interne alle abitazioni non lo so che cosa deve succedere per per far sì che venga ripristinato venga ripristinato questo tratto di strada per cui faccio un appello agli uffici al sindaco in primis affinché questa strada e questi residenti abbiano tutta la sicurezza possibile immaginabile per tornare sane e salvi nelle loro case perché è inammissibile che ancora dopo un anno e mezzo e dico un anno e mezzo un anno e due mesi che ho che ho effettuato la segnalazione ancora ad oggi il danno è è maggiorato per cui faccio questo appello disperato affinché insomma venga ripristinato a tutti questo possibile tutta questa situazione perché veramente è inammissibile perché ci deve scappare per forza è morto per insomma non lo so io